Forse sono i primi Bravissimi tutti Eccoci allora, avete scritto? Vai Voi Sta bene Viene la sala Vai Atenzione Grazie a tutti! 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 Tutti i giudici stanno lavorando un po'. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bambini, una bateria perché fra 5 minuti vi passiamo, eh. 5 minuti di numero. Allora, in caso vi ricordo gli appuntamenti per domani. Domani alle 8.30 ci sarà la messa in chiesa della compagnia. Alle 9.30 il prescorso Arte e Sapori e alle 11 qui in piazza la messa delle chiesi. La corrida allo spettacolo dei miei uomini, ok? Quindi, la corrida allo spettacolo dei miei uomini, ok? Quindi, la corrida allo spettacolo dei miei uomini, ok? Allora, gusto e sua presentazione. Gusto e sua presentazione. Sto a fare il giro anche all'Altomena per vedere la produzione di Oreo, ok? Quindi, per scopare l'Altomena, il cuore di partecipare a questo bel tour, stasera si deve tornare all'arena del lupo. Miochi! Sei! Ci è rimasto un po' di lupa! Ci è rimasto un po' di verdilli! Buonissimo, Lera, che cuoca! Allora! Vediamo il dolce. Se vuoi far vedere i capelli dolci? l'ha detto di sì eccolo qua bravissima che cuoca allora vediamo il dolce se lo fa vedere è il dolce l'ha detto di sì eccolo qua farfalla camicia divertita brava noemi allora dici il nome aspetta facciamola vedere guardatela guardate che piatto è questo guardate il piatto allora dici un po' il nome zuccherino zuccherino guarda noi stiamo a zuccherino aspetta facciamola vedere guardatela venite venite allora questo che si chiama è sto piatto? come? eccoli tutte e due venite 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 questo che si chiama è sto piatto? dai in questi da meanwhile da menzioni entrano da menzioni dentro dalla menzioni entrano dentro del liberale non sta acidando dici vince vince la prima edizione pochi sotto le stelle festa grossa domena 22 Camilla e Daniela applauso girato in reddito il pubblico eccole bravissima Camilla la mamma non conta nulla bravissima bravissima e bravissimi tutti un applauso immenso si? allora diamo il premio eccoci qua e l'olio di Yatova a mezzo girato in reddito il pubblico eccole bravissima Camilla la mamma e anche Antonella eccole mettetevi lì in quella scalina dietro a loro vai poi chiamiamo Katia e Giulio vieni Giulio grande Giulio vai a sedere anche voi e anche Antonella eccole mettetevi lì in quella scalina dietro a loro ci fa una bella foto anche voi nelle notte vai forza andate anche giudici nella foto grazie a tutti siamo i nostri giudici dandovi un omaggio della festa grossa grazie Angelo grazie infinitamente grazie a Gabriele un applauso anche ai nostri giudici eh danno siamo i nostri giudici dandovi un omaggio della festa grossa grazie Angelo grazie infinitamente grazie a tutti 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 Vai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti